Quando perdi, non perdere la lezione. La soluzione al problema della sovrappopolazione è, più monaci. Il nostro nemico è il nostro più grande maestro. Non si raggiunge la pace passando per qualsiasi altra causa. Non abbiamo altro in nostro potere che giustizia, verità, sincerità. Non credo che la religione sia indispensabile per la vita spirituale. La disonestà è distruttiva, perché mina alle fondamenta la fiducia del prossimo. Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto. Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Una risposta decisa ma priva di rabbia è più corretta e più efficace. Una persona altruista e compassionevole è in genere una donna o un uomo più felice, più sereno. La felicità è una combinazione di pace interiore, disponibilità economiche e, soprattutto, pace mondiale. Laddove l'ignoranza è la nostra padrona, non c'è possibilità di vera pace. Trovo inaccettabile che la violenza costituisca la base di alcune delle nostre abitudini alimentari. È lo stato d'animo, più che gli avvenimenti esterni, che determina la fortuna. Ricorda che non ottenere ciò che vuoi è a volte un meraviglioso colpo di fortuna. Se vogliamo costruire la pace nel mondo, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi. Nessuno è nato sotto una cattiva stella, ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. Il mondo è fatto di cose buone e cattive e ciò che noi recepiamo come realtà è in larga misura un parto del nostro spirito. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Giudica il tuo successo da ciò a cui devi rinunciare per poterlo ottenere. Povero è colui che soffre perché non possiede ciò che desidera e ne sente la mancanza. Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice tu, pratica la compassione. Quando noi riconosciamo veramente che si impone un cambiamento, allora il nostro spirito è pronto a cambiare. L'essenza della compassione è il desiderio di alleviare la sofferenza degli altri e di sostenere il loro benessere. Cedendo alla collera non facciamo necessariamente un torto al nostro nemico, ma in compenso danneggiamo senz'altro noi stessi. L'amore totale si fonda non sull'attaccamento, ma sull'altruismo, che costituisce la risposta più efficace alla sofferenza. Se dentro di noi non siamo mai soddisfatti e vogliamo sempre di più, non saremo felici, ci mancherà perennemente qualcosa. L'educazione, la gentilezza, la pazienza e la compassione sembrano spesso essere state parte solo di un nostro passato mitico. Una società in cui coesistono lo sviluppo materiale e il progresso dello spirito è una società che può veramente essere felice. Pensieri e azioni negativi producono risultati e condizioni negativi, così come pensieri e azioni positivi producono risultati e condizioni positivi. Un credore religioso, se ne avete uno, è di grande aiuto, ma, se non l'avete, potete sopravvivere lo stesso felicemente. Non sovrastimare mai il tuo potere di cambiare gli altri. Nella pratica della tolleranza, il proprio nemico è il miglior insegnante. La mente ignorante non interroga le apparenze per decidere se sono corrette. Essa accetta semplicemente il fatto che le cose sono come sembrano. Il modo migliore di utilizzare l'intelligenza e la conoscenza è mutare l'interno di noi stessi per maturare la bontà d'animo. Un modo efficace per combattere l'angoscia è preoccuparsi meno di sé e più degli altri. Quando davvero comprendiamo le difficoltà degli altri, le nostre perdono di importanza. Gli uomini o hanno cervello ma sono senza religione, oppure hanno religione ma sono senza cervello. Dobbiamo usare tutte le opportunità di praticare la verità, di migliorare noi stessi, invece di aspettare un tempo in cui saremo meno indaffarati. L'umanità si distingue per atteggiamenti mentali così diversi che una sola religione, per quanto profonda possa essere, non può soddisfare ogni uomo. Una politica priva di etica non incrementa il benessere dell'umanità. Un'esistenza priva di morale abbassa gli esseri umani al livello degli animali. Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace all'esterno se si coltivano nel proprio animo la collera o l'odio. Noi viviamo molto vicini, quindi il nostro scopo della vita è aiutare gli altri. E se non potete aiutarli, almeno non fate loro del male. La pazienza è una risposta ferma nei confronti dell'avversità che poggia su un carattere saldo che non si lascia turbare né da difficoltà esterne, né interne. Maggiore sarà la nostra calma mentale, la nostra tranquillità d'animo, maggiore risulterà la nostra capacità di condurre un'esistenza felice e gioiosa. L'essere totalmente liberi dal peso delle azioni passate e dalla schiavitù del desiderio, dell'odio e dell'ignoranza è quel che si dice liberazione, o nirvana. La disciplina mentale non richiede alcuna credenza o fede, ma soltanto la presa di coscienza che lo sviluppo di una mente più calma e limpida è un obiettivo nobile. Ciascuno di noi è l'artefice del suo destino, spetta a noi crearci le cause della felicità. È in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro.